888 6 6 6 6 668 Pignone Dovinico 6 8 2 682 Corazzo, Andrea Il giallo giallo non lo avessi Non è il santo C'è un pignone 3 6 5 360 Lodino, Tina Siamo alla sesta sezione 8 8 6 5 Allora, 865 Trufflo, Antonio Non so Antonio 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 7 4 6 740 guarda 483 non venerlo Marta 7 8 7 7 787 Speriale Giuseppe Questa è la settima sezione 4 4 0 7 407 Grazie 4 7 1 471 471 471 471 472 Lungo, Rosalba. Tre. Cinque. Otto. 358. Gatti, Rosalba. Gatti, Rosalba. Sardegna, Ginesio. Nove. Uno. Otto. 918. Sari, Angela. Sari, Angela, che è voglia di essere? Sezione 8. La voglia di togliere. La voglia di togliere. Togliere la cera. Vabbè, comunque, non lo so. Si deve fare la rinuncia formale, se si vuole togliere. Altrimenti non è regolare. Perché c'è una spesa, vieni. Due. 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 Uno. 21. Arpaia, Ida. No, va. Ida? Sarete, Cattie. Tre. Due. Cinque. Zero. Trecentocinquanta. Sarete, Cattie. Galdiano, Giuliana. Galdiano. Sarete, Cattie. Sarete, Cattie. Sarete, Cattie. Zero. Otto. Uno. Ottantuno. Rosco, Sabbio. 0 0 6 6 Allora, Rosetta Sì, tu, hai visto? Guarda Allora, abbiamo completato la numero 8 Adesso siamo alla 9 Per caso qualcuno rinuncia 8 Si rinunciano ufficialmente Eh, sì, devono fare la... Immagino Se loro vanno... Le salle dei sergi puoi nominare chi state vedendo Numero 8 e... A ginestra 7 e 8 ginestra 3 7 5 751 56 1, 2, 3, 4 6 1, 2, 3, 4 618 Palermo Palermo Gerardino 8 3 4 834 Carano Daniele Biglieta 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 Questa c'è una cosa ad esercizio Allora, decima sezione, decima e l'ultima sezione C'è che ci sono 4 1 1 1 411 Invelli Giorgina Invelli 5 9 3 5 No, non ho dato Non c'è? 9 e 30 Quindi di questo? 5 6 2 8 628 8 8 8 1 8 811 Servo di Dio e Gerardo 8 9 9 8 9 9 9 10 10 10 11 10 10 11 12 13 12 13 14 14 15 14 15 15 15 15 vediamo se ci sono doppi ore no no i 20 che vengono sotteggiata adesso sono le sorprese il primo che rinuncia subentrano questa nella sezione dove quella rinuncia chiaro? se rinuncia una persona di queste che verranno notificate come 5 a 2 rinunceranno ufficialmente al comune arriveranno qui i primi che sono i primi che subentrano nella sezione dove quella rinuncia a voi arriverà la notifica del messo a casa in quel momento lì avete 3 giorni di tempo mi pare per fare la rinuncia dal momento in cui vai notificato non mi ricordo se 24 ore o 48 ore comunque un tempo tecnico se uno degli scudatori sotteggiati non si presenta e non presenta e la rinuncia viene cancellato e poi c'è una e poi c'è una e poi c'è una ci vuole la giusta calma prego dobbiamo fare altri 20 sotteggi prego 5 5 9 3 prego 4 594 594 594 6, 8, 168, Cerza Anna, 9, 3, 0, 230, Giulolo Antonio. 5, 1, 5, 515, ma anche il tavolo? No, il elenco rimane sempre, se uno fa la rinuncia, ma se uno rimane semplice, 5, 5, 515, ma anche il tavolo? Grazie. 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 Grazie.